Tenerezza, misericordia, verità, giustizia. Queste le parole fondamentali del linguaggio di Papa Francesco, individuate da Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Il Cardinale, insieme a Padre Antonio Spadaro e al Cardinal Gianfranco Ravasi, ha analizzato le caratteristiche del linguaggio di Jorge Mario Bergoglio, un pontefice capace di trasformare ogni comunicazione in un vero e proprio evento mediatico, dalla richiesta della benedizione per sé, fatta nel suo primo discorso dopo l'elezione al Soglio Pontificio ai Selfie, Papa Francesco è riuscito a coinvolgere i fedeli, grazie a forme e a linguaggi che uniscono credenti e non. Le parole di Bergoglio includono, semplificano, ma sono anche capaci di innovare. Ne sono una testimonianza i tanti neologismi utilizzati nei suoi discorsi, termini in grado di descrivere i percorsi della fede che a volte, come ha sottolineato il Cardinale Parolin, si riescono ad esprimere meglio con parole nuove. L'operare di Dio nella realtà viene in modi che a volte si possono esprimere meglio con parole nuove che l'esperienza fa germinare. Ci troviamo così coinvolti in un sommovimento che scompaginando la vita finisce per forza con lo scompaginare anche la lingua. Grazie a tutti. Grazie a tutti.